Ehi, Stewee! Che cos'era quello? Uno stiracchiamento da gatto? Oh mio Dio, è questo che sembra? Beh, puoi dirlo forte. Fare quel report del DNA è valsa la spesa. Natura batte cultura. Ma che cos'è? Stai facendo le fusa? Sul serio ti credi un gatto? Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso. Non mi importa cosa dice quel report, non sei un gatto. Sei ciò che viene definito assimilatore compulsivo. Sarebbe a dire... Ricordi quando Madonna ha vissuto a Londra per tipo un mese e poi ha iniziato a parlare con l'accento British? Ecco quello. Se non fossi un gatto sarei così ossessionato da questo tiragraffi. Non è un tiragraffi, è la gamba di Meg. Non ti fermare.